Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Potrebbe esserci una svolta decisiva nel caso di Madeleine McCann, la bambina scomparsa in Portogallo nel 2007. Durante l'ultima puntata di Chi l'ha visto, Federica Sciarelli ha riportato che Bruckner, un 45enne tedesco, si sarebbe vantato con un amico di aver utilizzato un kit di attrezzi per entrare nell'appartamento di Praia da Luz, dove Madie e la sua famiglia alloggiavano al momento della scomparsa. Un amico di Bruckner, LGB, attualmente sotto protezione testimoni, ha raccontato, c'era ogni sorta di roba in giro a casa sua. «Avevo trovato un set di grimaldelli che si possono usare per forzare qualsiasi serratura, comprese le serrature di sicurezza», ha dichiarato. Questa rivelazione risale a tre anni prima della scomparsa di Madie. Gli investigatori ritengono che il rapitore sia entrato nell'appartamento dalla finestra, utilizzando questi strumenti. Il 3 maggio 2007, mentre i genitori cenavano con amici in un ristorante vicino, Madie scomparve dall'appartamento del resort. Le indagini iniziali conclusero che era stata rapita. Nel giugno 2020, la procura federale tedesca identificò Christian Bruckner come sospettato del rapimento e dell'omicidio di Madlen. E voi cosa ne pensate di questo caso della piccola Madie? Lasciate la vostra opinione qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.